Non so se Edoardo piacesse giocare a carte, ma sicuramente gli piaceva ridere. A me piace pensare che quel giorno lui rise, rise e ci manda tutti a fare in culo. Non so se Edoardo piacesse giocare a carte, ma sicuramente gli piaceva ridere. Edoardo piacesse giocare a carte, ma sicuramente gli piaceva ridere. La galera è un posto di tortura fisica e psichica, non ci vuole dire che alzarsi, che cosa mangiare, con chi parlare, che incontrare, anche a non vedere il sole. Per tutto avete da fare una domandina, anche per leggere un libro. Rumore di chiavi, di cazzelli che si aprono e si chiudono, modi che non dicono niente, modi che fanno anche in questi corridoi freddi. Scarpe di gomma per non fare rumore, per essere spiati nei momenti meno pensati. La luce di una fila che alla sera controlla il tuo sogno, posta controllata, parole di estate, tutto un caos, tutto l'inferno, tutta la morte. Quelli che ammazzano tutti i giorni, piano piano, per farti sentire più dolore. Gli eserciti di voi, con il vostro silenzio, i vostri occhi accusatori, le vostre scarpe tirate all'ucino. Il problema è che i nudi vogliono cambiare il mondo, ma nessuno vuole cambiare se stesso. Il palazzo di giustizia è stato livezzato, le vetrine in fronte, i giornalisti marmelati, i giudici accusati. A tutte quelle belle animi di politicanti, istituzionali o meno, che alla luce, a lunga e a me l'hanno sentito, non è di basta. E che ora dicono di voler parlare, studiare, capire, partecipare, andiamo a impensare a dire che ti fanno schifo, e che non li tolleriamo, l'ora, né mai. Io non so, per qua, non fuori. Io non so, per qua, non fuori. E ancora adesso non so chi ha vinto, chi ha perso, noi siamo ancora qua.